Il centro commerciale Bari Blu torna a rivivere con l'apertura dell'ipermercato Ipersimpli, 3.500 metri quadrati di superficie che questa mattina sono tornati ad essere calcati da carrelli e tanti clienti fin dai primi minuti di apertura. Dopo solo un'ora c'erano code alle casse aperte. Sarà per l'ottimo rapporto qualità-prezzo che da sempre distingue a Puglia Distribuzione, la società che ha sviluppato Ipersimpli, leader in Puglia con un fatturato di 600 milioni di euro e oltre 1.200 dipendenti e a proposito di forza lavoro, dopo mesi di buio 70 dei 119 ex dipendenti Oshan hanno ritrovato il sorriso. Una politica impostata su prezzi bassi, convenienza, credo sia decisiva in qualsiasi periodo dell'anno, quindi non solo per Pasqua. Diamo atto comunque ai Ipersimpli di aver fatto una scelta eccezionale sia nel layout dell'ipermercato sia nel pacchetto delle offerte. Non resta che aspettare l'apertura, prevista per fine maggio, di Expert, catena di elettronica che occuperà la restante parte di superficie del vecchio ipermercato. Le trattative per l'assunzione degli altri ex dipendenti sono aperte, ma non ci si può ancora esporre a riguardo, ha dichiarato il responsabile risorse umane Massimo Grisorio. Per gli altri non mi posso esprimere, insomma, mi auguro che con la nuova struttura che aprirà troveranno quella locazione.